Quali sono le differenze tra luce flash e luce led o luce continua? Le differenze sono che il flash è un lampo e spesso riusciamo, riesce ad essere molto più powerful, molto più forte e potente a confronto di una luce led che è una luce continua e di solito meno forte. Negli ultimi tempi tantissimi videomaker fanno i fotografi, tantissimi fotografi fanno i videomaker perciò per avere una trattatura più compatta si è portati magari ad acquistare una luce che va bene per tutti e due e il led è questa perché con il led possiamo fare anche le foto, con i flash non possiamo fare anche i video però non si possono ottenere gli stessi risultati, per esempio se devo fare un ghiacciare con la luce tra virgolette ghiacciare una goccia che cade, col flash mi viene molto più facile e ha una qualità molto più alta perché? Perché con il led la luce è quella, la potenza è quella perciò per avere un tempo di scatto molto veloce per riuscire a immortalare questa goccia che sta cadendo devo di conseguenza aprire il più diaframma perciò se ho un diaframma molto aperto farò fatica a tenere a fuoco questa goccia e in più ho una perdita di incisione data all'apertura molto ampia del diaframma perciò la mia lente perde incisione e se questo non bastasse dovrei alzare anche gli ISO in quel caso io preferirei avere una luce flash o anche un altro esempio potrebbe essere una fotografia in studio di uno sportivo di un giocatore di basket che palleggia con la palla in studio per avere una bella immagine gelata e immortalare a quell'esatto momento preferirei avere una luce flash qual è il vantaggio invece di questa cosa di una luce continua? il vantaggio della luce continua è che è appunto continua perciò non abbiamo il tempo di ricarica perché alcuni flash hanno un tempo di ricarica perciò ha una luce molto potente, un lampo molto potente e dopo si mette qualche millesimo di secondo per caricare la seconda flashata o un altro problema del flash invece potrebbe essere che la prima flashata è molto potente e quella dopo riesce a farla però in realtà non ha caricato del tutto perciò è un po' meno potente perciò avremo una foto esposta correttamente e la foto dopo leggermente sottoesposta e noi cosa facciamo? di conseguenza andiamo a regolare la macchina fotografica facciamo un'altra foto e la foto dopo ci viene sovraesposta perché in realtà noi abbiamo cambiato il settaggio della camera per avere una foto esposta correttamente in base alla foto precedente che è dove il flash aveva scattato e non era completamente carico perciò abbiamo cambiato il settaggio facciamo la foto il flash nel frattempo si è caricato completamente e la foto che facciamo viene leggermente sovraesposta questo è uno svantaggio di fare le foto col flash se non abbiamo dei flash super performanti c'è un meglio, c'è un peggio? sì, dipende che cosa vogliamo ottenere che cosa stiamo fotografando se dobbiamo fotografare appunto qualcosa di molto veloce è meglio il flash dobbiamo fotografare un bambino e il flash ci può dar fastidio è meglio la luce continua se dobbiamo fotografare degli interni di una casa è indifferente perché molto probabilmente avremo la macchina sopra il cavalletto possiamo utilizzare addirittura anche la luce ambiente un pannello led un flash questo ci è indifferente quindi per certi tipi di fotografia è meglio il flash e per altri è meglio la luce continua non è detto che io queste due luci non le possa mischiare spesso la luce flash può essere il lampo la luce principale e di conseguenza abbiamo una luce continua chiaramente dovrebbe essere una luce continua forte per schiarire o fare un contro luce o illuminare una parte della stanza sono sicuro che negli ultimi anni c'è stato un calo nelle vendite delle luci flash per il fatto che le luci continue sono sempre più complete ci sono addirittura dei led che riescono a fare dei piccoli lampi flash che chiaramente non sono forti come un vero flash però il vantaggio del led è quello che molti possono cambiare le cromie possono cambiare i colori possono essere più compatti più piccoli la batteria dura di più la luce continua per un fotografo all'inizio è più facile perché sei già come dove la luce va a colpire in che modo va a colpire l'esposizione della camera è già pronta perché con il mirrorless abbiamo già la foto finita prima di scattarla perciò la luce led è una luce più semplice però sono sicuro che non andrà mai a sostituire la luce flash perché la luce flash per certe e determinate fotografie ci serve